Davide Baldino Aldo, a seguire, l'Ivulpa Alessandro Figorella Andrea Braccia avanti, difende, dentro poi c'è stata Manni, un po' più frontale questi piedi Vince, Brascia, al capito C, questa serie 70 kg, Pardino Martucci Si preparano, terza serie 65 kg, Pardino Martucci Vattene in casa catà, vattene in casa catà Anche questo, è bravo, no Siete vivo Emanuele Stabilizzati, stabilizzati Respira e pensa, respira e pensa Vecchio di lui, vecchio di lui Cammina verso di lui Spira il bravo Buono Massimo, buono Eccolo Ma non lo fai in più Ma non lo fai troppo Ma non lo fai Anche le fasi del bugio del cuore Prenda il gaccio Prenda il gaccio, Manuele Prenda il gaccio Vai, 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 vai Vira a te Vira a te Va, vira a te Vai, vi della te Passa, a presto Barra, facciamo prochain Passa, regano Allora, basta Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.